Oggi i carabinieri sono venuti a donare al Centro Trasfusionale di Grossito in tutta la provincia una iniziativa che lei ha assunto e che vorrà ripetere anche nel corso dell'anno. Abbiamo sfruttato una nostra ricorrenza molto importante, che è quella della nostra patrona, la Virgo Fidelis. L'abbiamo voluta sottolineare con un atto di solidarietà concreto. Questa collaborazione che abbiamo avviato con il Centro Trasfusionale del Misericordia e con l'Asla ha il suo inizio oggi, ma in realtà speriamo di far seguire tante date e di portare presso il Centro Trasfusionale quanti più carabinieri è possibile. Anche perché ricordiamo che i carabinieri sono innanzitutto cittadini, vivono tra la gente ed è giusto che diano anche un contributo concreto a quelle che sono le situazioni più delicate e che richiedono appunto l'apporto di sangue. I nostri carabinieri non solo tutelano e proteggono i cittadini, ma hanno anche un occhio di riguardo per la salute dei nostri cittadini. Questa iniziativa di oggi però non significa che la donazione di sangue è riservata solo a pochi, ma è un monito per comunicare a tutti i cittadini che possono venire a donare. Avis ha organizzato una mattinata decisamente particolare. Ancora di più si lega il nome di Avis a quello dell'arma. Ringrazio a nome dell'Avis comunale Grosseto, il comandante provinciale dei carabinieri e tutti i suoi uomini che si sono impegnati a venire stamattina a donare. Mi auguro che si ripeteranno queste iniziative, ma non soltanto con l'arma dei carabinieri, ma su tutti i militari che operano qui nella città di Grosseto.